Mamma mia quanto mi fanno ridere queste cose. Meta che in un giorno fa il più 25%. A questo punto mi chiedo, ma l'azienda oggi vale 25% in più rispetto a ieri? Oppure c'è qualcuno che si sbaglia oggi o si sbagliava ieri? Oggi cerchiamo di dare una risposta alle vostre domande. Infatti alla fine del video vi farò vedere la mia valutazione attuale su Meta. Prima di iniziare ad andare a vedere cosa è stato detto nella conference call e cosa ha rilasciato Meta con l'ultima presentazione agli investitori. Vi voglio dire che stasera alle 10 uscirà la trimestrale di Alphabet. Probabilmente è la mia più grande posizione su tutti i portafogli. Se avete il piacere domani di ricevere la mia valutazione aggiornata con l'analisi della trimestrale fatemelo sapere qua sotto con un bel like o un commento. Tra l'altro voi siete azionisti Meta, Alphabet, tutte e due, nessuna delle due. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Allora come sempre sono andato a sviscerarmi un po' la earnings presentation e sono andato a vedermi anche un po' la conference call e sono andato a selezionare quali secondo me sono le cose più importanti da andare a vedere e nel farlo ho creato semplicemente un documento Google che ora vi ingrandisco a un pelo e sono andato a evidenziare appunto le cose più interessanti in modo tale da riassumere molto brevemente le motivazioni che hanno portato l'azione a salire addirittura del 25% in un solo giorno. Allora secondo me le cose principali che hanno portato in rialzo al titolo sono sostanzialmente 2 barra 3, non tantissima ma come ogni volta quando un titolo è in caduta libera tendenzialmente si aspetta una trimestrale disastrosa e ieri visto che è uscita una trimestrale a mio parere buona ma non eccezionale il titolo fa il più 25%. Capite che ho creato un algoritmo anche per andare a togliere la parte emotiva alle mie valutazioni. Io ovviamente Meta ce l'avevo in portafoglio, ho comprato nell'ultimo periodo ma sinceramente non mi aspettavo che facesse un più 25% in un giorno. Comunque sostanzialmente la cosa che ha scioccato il mercato è il fatto che Zuckerberg che è una persona intelligente a mio avviso ma fatemi sapere anche voi se siete d'accordo ha sostanzialmente annunciato che è previsto un buyback da 40 miliardi per Meta che equivale all'incirca al 10% della market cap. Quindi teoricamente a parità di multipli l'azione è giusto che salga ma di un 10% diminuendo le azioni circolanti del 10% a parità di multipli è giusto che teoricamente l'azione salga del 10% ma non del 25% e quindi andiamo a cercare di vedere quali sono le altre due secondo me cose che hanno fatto salire il titolo. Allora un'altra cosa importante è il fatto che al contrario di quello che si dice ogni volta gli utenti attivi giornalieri e mensili per quanto riguarda la family of app che comprende quindi Whatsapp, Facebook, Instagram e altre applicazioni come Messenger continua ad aumentare che che se ne dica percentuale di qua percentuale di là Meta continua a crescere e quando la danno tutti per morta lei continua a crescere sempre e quindi secondo me è stato un altro motivo che ha portato l'azione a crescere. Se andiamo a vedere quello che in realtà è la cosa più interessante ovvero l'average revenue per person è calato e è passato da 9,39 dollari a 8,63 dollari che sostanzialmente è lo stesso più o meno all'incirca di due anni fa quando Meta era nel suo boom quindi Q4 2020 quindi mi fa ridere che i ricavi che lei fa per persona sono i stessi del 2020 ma se andiamo a vedere la valutazione probabilmente forse è la metà infatti se andiamo a vedere Q4 2020 la azienda stava intorno ai 300 dollari e ora sta a 189 e fino a un giorno fa stava a 150 quindi esattamente la metà quindi mi fa un po' ridere il fatto che attualmente Meta valga la metà facendo le stesse revenue per persona e aumentando addirittura le persone attive questo mi fa capire quanto il mercato sia inefficiente ma proseguiamo un'altra cosa che ha fatto salire l'azione tantissimo è il fatto che Meta prevede un fatturato compreso tra 26 e 28.5 miliardi di dollari che è superiore alle stime dei analisti che erano di 27.25 miliardi di dollari un'altra cosa che ha fatto tra virgolette impazzire gli investitori e gli analisti è il fatto che Susan Lee ovvero il direttore finanziario di Meta ha sostanzialmente abbassato le stime per i costi del 2023 infatti tendenzialmente l'azienda prevede di spendere tra 89 e 95 miliardi di dollari mentre le stime erano tra 94 e 100 miliardi di dollari questo è principalmente dovuto a un rallentamento che c'è e si prevede esserci per i salari e gli stipendi hanno anche abbassato le previsioni per il capex infatti si aspettano di spendere tra i 30 e 33 miliardi contro i 34 e 37 miliardi previsti precedentemente il che fa aumentare il free cash flow per i prossimi anni e poi sono andato a prendere semplicemente un po' quelle che tra virgolette mi fanno anche ridere perché sono le stesse opinioni che gli analisti davano qualche mese fa e ora diciamo che si rimangiano tutto e cambiano un po' le cose sostanzialmente questi analisti ribadiscono il fatto che Meta attualmente è praticamente priva di leva finanziaria vuol dire semplicemente che è poco indebitata e questo permetterà nel prossimo futuro di aumentare il riacquisto di azioni ovvero lo share buyback Zuckerberg ha anche aggiunto che i progressi che ha fatto l'intelligenza artificiale nella quale hanno investito per aumentare l'engagement dei reels ha avuto un ottimo riscontro infatti sta appunto come vi dicevo aumentando l'engagement dei reels e in generale delle applicazioni detto questo andiamo a vedere qual è la mia valutazione aggiornata utilizzando il mio algoritmo creato da me che tiene in considerazione all'incerca di una quarantina di input che sono indicatori di bilancio più stime di crescita e si tira un rating da 1 a 10 considerando sempre che sopra 6 sono ottimi ottimi voti perché è stato molto molto rigido attualmente Meta ha un rating di 6,98 come potete vedere qua che vi sembra non altissimo ma in realtà è molto molto alto questo è dovuto principalmente al fatto che ha uno stato patrimoniale pressoché perfetto perché ha un rating di 9,56 su 10 che è altissimo considerate sempre che mi fa ridere anche questo perché Meta ha sostanzialmente in cash 40 miliardi di dollari debiti a breve a 1,3 miliardo e debiti a lungo termine ne ha 25 quindi la situazione debitoria è praticamente perfetta ha poi un rapporto fra equity e liabilities perfetto per quanto riguarda il conto economico nonostante il netto calo dei margini che ha avuto nell'ultimo anno ce l'ha praticamente perfetto come sempre infatti ha un rating di 8 considerate che ha un ROE del 18% che se lo paragonate con la media del S&P 500 diciamo che c'è da baciarsi i gomiti che se ne dica anche un tax rate abbastanza alto rispetto ad aziende come Alphabet o altre aziende tech infatti ha addirittura un tax rate del 19,5% che non è assolutamente poco per quanto riguarda i multipli sostanzialmente penso siano i multipli corretti per la situazione attuale di Meta non penso sia attualmente sottovalutata come multipli infatti ha un price earnings di 18 che considerando una crescita stimata per i prossimi anni è abbastanza normale ovvio che se andiamo a paragonarla con i multipli che avevo una volta sono bassi però attualmente Meta non prevedo cresca nel prossimo futuro come è cresciuta nel passato quindi inevitabilmente devo attribuire anch'io dei multipli più bassi ed è per questo che dopo vi farò vedere la mia valutazione personale prima di farlo andiamo a vedere molto realmente un discounted cash flow per quanto mi riguarda prevedo un aumento del free cash flow all'incirca di un 8-10% anno per i prossimi anni che ci porta però magari a vostra sorpresa a una sopravvalutazione del 26% considerate che se noi prendiamo in considerazione l'aumento che c'è stato oggi potete dedurre il fatto che ieri Meta secondo me era correttamente valutata oggi a mio avviso diventa sopravvalutata leggermente considerando sempre le crescite stimate da me che possono essere basse però io mi devo basare su quelli che sono i miei dati attuali ed è per questo che se noi andiamo a fare una valutazione sui multipli mi vuole dirvelo però a mio avviso a questi prezzi qua non conviene entrare questo è dovuto principalmente al fatto che se io prendo l'utile operazione attuale gli stimo una crescita del 8-10% come vi dicevo prima mi viene un'utile operazione di 13,41% fra 3 anni e se io gli attribuisco un pie che a mio avviso è corretto per la situazione in cui si trova Meta attualmente che è 17 poi potete essere un po' più generosi o un po' meno di manica larga però sostanzialmente diciamo che secondo me un multiplo corretto potrebbe essere intorno a quella cifra lì come vi dicevo mi viene un prezzo tra 3 anni di 230 dollari che ci porta dai valori attuali un guadagno solo del 20% è ovvio che se Meta dovesse scendere intorno ai 150 dollari che sostanzialmente è il prezzo che aveva fino a qualche giorno fa è ovvio che diventa di nuovo super interessante considerando anche le dinamiche che sono cambiate attualmente è ovvio come vi dicevo prima che se Meta dovesse aumentare i ritmi di crescita quindi se questo 18% dovesse trasformarsi in un 10-15 inevitabilmente anche i multipli si espandono quindi ovvio che se 10-49 che sono gli utili per azione attuali dovessero diventare fra 3 anni 15-16 a quel punto lì abbiamo supponiamo 15 di utile per azione se noi stimiamo un PE più corretto di 20 a quel punto lì facciamo 20 per 15 la valutazione diventa già 300 e allora qui la situazione cambia perché la performance che possiamo fare non è più del 20% ma molto più alta a quel punto lì diventa molto più interessante a mio avviso però non ho il margine di sicurezza che mi permette di investire in Meta attualmente l'ho fatto ma attualmente mi fermo e monitoro come si evolve la situazione detto questo fatemi sapere cosa farete voi con me se siete investitori o se non lo siete se avete intenzione di comprare o fare altro detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like e un commento ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti